Sindaco Lombardi, come giudica la recente approvazione della legge elettorale in Molise? La legge regionale è pessima per la regione Molise e una porcata per la provincia di Sernia. Lo è sia nella sostanza che nella forma. Nella sostanza lo è perché i 52 comuni della provincia di Sernia avevano deliberato, al di là della composizione dei collegi, quindi se si optasse per un collegio unico, per due o per tre, le sei unità per la provincia di Sernia, quindi per un'equa e giusta rappresentanza. Di questo non è stato tenuto conto dal Consiglio regionale a dimostrazione che la provincia di Sernia è totalmente abbandonata. Inoltre è una legge fatta su misura per il governatore uscente, è una legge che di fatto favorisce sia i consiglieri uscenti sia coloro che detengono il potere. Io personalmente ho un altro concetto di politica e è una legge sbagliata anche per quanto riguarda la forma, perché le regole del gioco vanno riscritte insieme, quindi anche con l'aiuto e con l'opposizione, ma soprattutto la legge non può essere approvata tre mesi prima delle elezioni regionali. L'unica cosa positiva è che sono sicuro che la maggior parte degli elementi che oggi siedono a Via Novembre saranno spazzati via dalla prossima legislatura e dal voto elettorale. Coscienza civica in tutto questo come si colloca? Che cosa state facendo? Quali sono le manovre e a che punto state? Coscienza civica sta lavorando con i suoi uomini e con le sue donne per creare un'alternativa all'attuale governo regionale, un'alternativa sia di uomini ma soprattutto per creare e proporre ai molisani una nuova piattaforma programmatica, un nuovo modo di fare politica, una politica chiara, senza sotterfuggi e senza furbizze. Quello che è successo ieri è grave anche da un altro punto di vista. Il governatore della regione Molise ha bleffato perché da una parte ha sponsorizzato, a suo dire, i tre collegi, però poi dall'altra parte i membri fedeli della sua maggioranza hanno votato per il collegio unico. Ecco, io penso che la gente sia stufa di questi doppio gioquisti, sia stufa di coloro che di volta in volta tradiscono la fiducia dei molisani. Noi parleremo un linguaggio della chiarezza, della franchezza e della sincerità.